Alessio De Leonardis, seconda prova alla regia assieme a Fabrizio Moro, come è andata? Evidentemente buona la prima e quindi è arrivata anche la seconda. Sì, fortunatamente sì, la prima è andata bene, quindi perché non replicare? In realtà questo fa parte di un progetto mio e di Fabrizio che portiamo avanti da un po' e abbiamo avuto la fortuna di essere ripagati bene con il primo film. Adesso ci tocca sperare di confermare nel secondo film. Speriamo. Vi rappresentava già Ghiaccio, non vi conosco ovviamente benissimo, però mi sembra di capire che fosse così. Quanto vi rappresenta anche Martedì e Venerdì? Sicuramente anche più di Ghiaccio, è molto autobiografico questo film, parla di una separazione, parla di un papà con una figlia, come vedi? Mi sono inquadrato, certo, come vedi parla di un papà e di una figlia. Miriam. Miriam. E quindi abbiamo messo tanto della nostra vita e tanto delle difficoltà che abbiamo vissuto come genitori separati e sperando di accendere una luce su questo argomento. I papà hanno vita molto difficile spesso, quindi speriamo di aver lasciato qualcosa. Quanto si sbaglia per amore? Tantissimo, 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 però l'importante è rendersene sempre conto e cercare di rimediare, perché tutti sbagliamo. Grazie. Grazie. Ciao Miriam. Ciao. Ciao.